Sì, un'occasione veramente grande. Siamo stupiti anche noi dell'invito che questo Vescovo Monsignor Varduni ha accettato. È una cosa che il gruppo dei giovani età beta dell'oratorio aveva pensato già da tempo, da qualche mese, quando abbiamo messo in campo la proiezione del film Uomini di Dio che abbiamo proiettato il 13 gennaio. Non sapevamo però se il Vescovo di Bagdad avrebbe dato il suo assenso a venire a Clusone perché ci sono ben altre piazze molto più importanti di Clusone e davvero siamo molto fortunati. L'altro giorno mentre ero in Terra Santa mi è arrivata la notizia da Roma che il Vescovo aveva accettato e allora stiamo così un po' correndo per preparare questo evento particolare e quindi lunedì sera, il giorno di San Giovanni Bosco, sarà presente appunto lui, questo Vescovo che è stato anche mediatore nell'uccisione di Monsignor Rico, un Vescovo di Mosul, sempre nell'Iraq e che ancora adesso ha percorso in questi ultimi giorni il Parlamento tedesco, il Parlamento europeo e ultimamente anche è stato al Parlamento italiano per portare, per raccontare la grave situazione in cui si trovano i cristiani dell'Iraq e del Medio Oriente. Nessuno più di lui è esperto, profondo conoscitore della realtà irachena e medio orientale sia della persecuzione dei cristiani ma sia anche della situazione in cui si trova attualmente l'Iraq e tutti gli iracheni. Per quale occasione in Italia in questi giorni? Allora, Monsignor Barduni è venuto in Italia innanzitutto per ritirare un premio, la Regione Lombardia ha istituito un premio per la pace ogni anno e quest'anno lo ha dedicato a lui e quindi è venuto per ritirare questo premio che ha già detto è dedicato a tutti gli iracheni e particolarmente ai cristiani e ha approfittato dell'occasione appunto per visitare questi Parlamenti e per raccontare la situazione. Noi l'abbiamo, siamo riusciti a raggiungerlo tramite alcuni canali del Vaticano e siamo ben contenti di averlo qui, penso sia davvero un grande dono, non solo per Clusone ma anche per tutta la zona e quindi invito tutti a essere presenti la sera del 31 gennaio. Abbiamo chiesto al Vescovo di celebrare, di presiedere anche la Messa di Don Bosco, il quale è intitolato il nostro oratorio e quindi alle 20.30 sarà celebrata, presieduta la Messa da lui nella chiesetta dell'oratorio di Clusone e poi subito alle 21 l'incontro, la sua testimonianza veramente toccante, recentemente è stato anche oggetto di un attentato a cui è sfuggito miracolosamente in colume e quindi racconterà un po' la situazione, quella che noi non leggiamo sui giornali, una delle cose che dirà per esempio è che ogni giorno vengono rapite decine di persone, non solo cristiani, iracheni, per chiederne il riscatto, spesso tornano cadaveri nelle loro case, queste persone rapite e anche solo per avere il cadavere viene pagato un riscatto, ci racconterà un po' tutto quello che spesso non viene raccontato dai nostri giornali.